e bubo bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video un po' speciale oggi siamo in compagnia di Flavio e io oggi come avete visto dal titolo abbiamo comprato, io ho comprato perché io già ce l'avevo già ce l'avevo, FIFA 15 ragazzi per PS4 qui abbiamo in primis la scritta Feel the Game i vari campionati che possiamo fare quelli spagnoli, inglesi cerchiamo un po' di mettere a fuoco e gli altri non lo metto ovviamente con FIFA 15 il calcio prende vita grazie a una serie incredibile di dettagli per farti vivere emozioni mai provate prima sul lato FIFA 15 non so se si vede ok e qui abbiamo i guai in e messi sono scritta FIFA 15 ora andremo ad aprirlo io ci vorrei provare da qui che c'è una piccola linguetta ma non so ah ci sono riuscito non ci riesco mai però vabbè aspettatevi i pack opening e partire su Ultimate Team perché sono troppo belle mi piace un sacco Ultimate Team wow ecco il gioco il gioco eccolo qua più venduto in tutto il mondo c'è oltre 3-4 milioni no ma che penso molto di più se vede su Ultimate Team però non tutti ce l'hanno ecco qui ecco qui abbiamo tutto qui che spiega Ultimate Team qualche codice no non ci stanno codici no e vabbè è questo ragazzi questo è il gioco niente di che aspettatevi un pack opening oppure partite io oppure partite io su Ultimate Team beh ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito vi lasciamo vi vi ricordiamo di lasciare un like di commentare e di scrivermi bella da me e Flavio ciao ciao